Un tricolore sempre sventolerà in città Dal Palabigit con da Reggio Emilia Abate 3-0 Ortona Siamo con Enki Helt Enki, una bella partita, una bella prestazione di squadra Un bel 3-0 Si è visto finalmente un gioco di squadra E un carattere che, perdonami, fino adesso non si era visto Penso che abbiamo fatto una buona partita Sono d'accordo Anche in momenti di difficoltà siamo riusciti a stare calmi Dei errori banali li abbiamo fatti dall'inizio E li conteremo a fare sicuramente Però è più il modo con il quale lo sopportiamo E questo secondo me oggi l'abbiamo fatto bene Abbiamo fatto una buona prestazione Sono contento della partita, dei risultati e dei punti Questo 3-0 è fondamentale soprattutto per il carattere, per la grinta E soprattutto è l'inizio di un nuovo campionato Se si affrontano gli spareggi, le altre partite in questo modo Permettimi, ma non ce n'è per nessuno Sicuramente queste partite adesso, visto la classifica Servono per trovare la buona dose di carica per i spareggi Che purtroppo siamo condannati a fare Ma io secondo me oggi l'abbiamo fatto bene Penso che anche la prossima partita sarà comunque una buona partita per noi Per ritrovare la fiducia E poi andiamo a mille nei spareggi Allora sai cosa diciamo, come ho già detto Che per Pasqua faremo Anzi farete un bel regalo a voi, alla società Ma soprattutto ai tifosi Cosa troveranno nell'uovo di Pasqua? Guardiamo una partita alla volta Adesso domenica dobbiamo andare a Mondovì Per fare una buona partita Penso che adesso è inutile guardare già i spareggi Perché non sappiamo con chi, dove Adesso dobbiamo prepararsi per Mondovì Sicuramente l'umore sarà un po' più positivo in palestra Perché dopo l'ultima settimana Quella abbiamo sempre perso Il martedì non era facile ripartire Però penso che domani sarà un po' più facile Però è importante che continuiamo sulla strada che abbiamo imboccato Va bene, complimenti Ti aspettiamo e aspettiamo tutti per Pasqua Va bene